ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato ai vostri video eccoci qua ancora una volta con la stupendissima rubrica dedicata al vostro percorso hobbystico cioè come collezionare orologi come metterli da parte come accaparrarli e poi mostrarli al pubblico a volte vi vergognate di mostrarli come il tipo col passamontagna a volte no a volte ci mettete proprio la faccia a volte rimanete dietro la telecamera come è norma e come è solito fare oggi vedremo 5 video se non mi sbaglio insomma raggruppati per un tempo totale che poi più o meno è sempre il solito e prima di mostrarveli però vi voglio dire come fare cioè dovete fare un video della vostra collezione che duri almeno cioè al massimo 7 minuti 8 non esagerate poi dipende anche da cioè se il racconto è interessante potete durare anche 8 minuti ma se ci avete un orologio mi fate un video da 8 minuti e diventa noioso no insomma un minimo di insomma abbiate sapete come farlo in orizzontale sapete come farlo sì ma in orizzontale non in verticale che poi si tribola ora prima di vedere il video vi mostro l'orologio del giorno che anche oggi questo simpatico rolex explorer da 39 mm orologio da tutti i giorni è un orologio che mi piace moltissimo nella sua versione 39 mm che però io ho preso quello con il mark mark 2 si chiama quello con il 36 e 9 con il chroma light sopra no che insomma a luminescenza anche al buio invece quelli i modelli prima del 2016 non ce l'hanno a me piaceva questo e sono riuscito a trovarlo da un amico qua della zona che insomma da bando discorsi inutili adesso partiamo con il primo video ciao davide fatta bu ciao complimenti per il canale devo dire che lo seguo con passione ma anche con una certa leggerezza bravo nel senso che lo trovo piacevole è una visione spesso anche tecnica descrittiva ma anche molto piacevole leggera fruibile non pesante come tanti altri canali che sinceramente dopo poco non riesco a seguire e il fatto che tu dia spazio ai tuoi ascoltatori è una cosa che io ritengo essere molto molto bella allora partiamo ti mostro la mia collezione io sono da sempre appassionatissimo di orologi fin da quando ero proprio ragazzino addirittura il mio primo rolex fu un rolex date just comprato devo essere sincero avevo 16 anni lo feci arrivare a casa i miei genitori non sapevano niente e poi sostanzialmente non fu il mio primo orologio perché mio padre lo rimandò indietro quindi ma com'è fatto a 16 anni a comprarti il day just fammi capire una cosa ti piovono i soldi da da dal cielo magari costava magari sei 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 del 1902 costavano poco ma non lo so però fa strano è una storia anche un po triste se vogliamo triste da quello però evidentemente gli feci un po pena e il mio primo rolex fu un per i 18 anni mozza rolex submariner un rolex come quello che vedi qua nel video il mio primo orologio infatti che ti descrivo dico come perché purtroppo che l'orologio quel rolex submariner mi fu rubato altri tempi parliamo del 1998 99 per l'esattezza ricordo che mio padre mi portò in una boutique di orologi rolex era una delle marche quindi non era un monomarca e c'era il nostro submariner disponibile a vetrina costava 5 milioni e mezzo me lo ricordo ancora adesso altri tempi altri prezzi un altro mondo completamente quindi parto dal submariner che vedi qua questo è una questa una referenza moderna l'ho acquistato nel 2021 da negozio rolex un orologio che io adoro cerco di metterlo non troppo in modo da non rovinarlo ma no domani tram diciamo passarlo a uno dei miei dei miei bimbi insomma ho capito ma cioè non è che glielo devi passare in tonso ai tuoi bimbi perché altrimenti loro ha più che più che il valore del rolex nuovo di pacca con le pellicole ancora cosa gliene può fregare un giorno che degli passi l'orologio un giorno che non ci sarei più gli interesserà gli interesserà avere l'orologio del babbo anche se fosse un un lorenz qualsiasi da 100 euro gli interessa avere un casio è la famosa diatriba casio rolex di shakira no anche se fosse un casio allora gli interesserà avere l'orologio che ha usato il babbo con tutte le i graffi rovinato perché perché l'ha usato babbo è usato per tanti anni se te glielo tieni lì in cassaforte fermo in tonso così vergine e poi il caviglio dai a loro fai prima a fargli un assegno gli fai un assegno gli dai dei soldi e il valore lo stesso cioè è lo stesso quindi parto con questo semplicemente perché è un po l'origine della mia storia va bene ma questo rolex che vedi arriva appunto nel 2021 è stata una casualità perché perché sono entrato nella boutique rolex e sono entrato per un tudor in realtà al mio uno dei miei primi orologi diciamo moderni tra gli ultimi è stato un tudor il tudor che vedi qui eccolo bello top è un tudor gmt un orologio che io apprezzo tantissimo stato nuovo acquistato nuovo un orologio che a mio parere è bello molto vestibile l'unico tema vabbè che anche un po la caratteristica è il fatto che è particolarmente è particolarmente alto e questo ovviamente lo rende un pochino meno vestibile per fare un esempio questo è il questo è sul mariner guardate la differenza insomma c'è una bella è una bella differenza tra i due ok sì ma come ripeto spesso è una scelta stilistica di tudor voler essere così chunky no così muscoloso va apprezzato per quello cioè lo devi comprare perché è così non che ero lo compro perché purtroppo è così no allora non comprarlo nemmeno cioè a me non interessa al momento dico al momento perché ormai ho imparato che se io dico come per paneraio però per altri orologi dico che non mi piace no in assoluto poi dopo mi rimangio la parola perché dopo un anno dico no però forse quell'orologio lì mi piace è capito e quindi dico al momento al momento non mi interessa averlo in collezione ma se mi dovesse interessare lo accetto così per quello che è perché è spesso presente non facciamoci un problema è apposta due orologi poi ne avrei di più per diversificarli un pochino no per avere uno sottile uno spesso uno grande uno piccolo uno giallo e uno rosso insomma cosa facciamo tutti uguali no no ad esempio a me io indosso volentieri il long jean vintage da 35 mm l'indosso volentieri no indosso volentieri questo qualche da 39 sta bene sul posto da 39 e indosso volentieri anche gli orologi grandi ok certo non un un dress watch da 43 mm non esiste cioè ogni ogni tipologia di orologio ha alla sua misura no un diver da 43 44 45 un panare un panerai da 47 hanno senso vanno bene così uno boat da 45 va bene a quel senso lì quindi bisogna anche un pochino diciamo allargare le vedute dai lo dico io che sono il più talebano degli stili però va bene dai faccio mea colpa comunque io entro boutique rolex acquisto questo questo gmt bravo e poi mi metto in lista per un submariner incredibilmente perché 2021 era già un momento pazzesco incredibilmente dopo due settimane mi chiamano io non ero cliente ero sono andato a comprare questo tudor mi chiamano e mi dicono guarda è arrivato il tuo submariner un altro orologio questo diciamo che bello allora che ho fatto questo qua è un altro di quegli orologi che io ho già fatto anche un video per denigrarlo no è la copia del submariner ma ridotta a 100 metri a cosa serve bla 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 ecco e in questi mesi poi mi sono reso conto che invece è più bello questo per me è più bello questo del submariner perché alla cassa la cassa tipo più 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 gentile più tipo de just più stondata più sottile ok più la ghiera in in platino lo rende pregiato ecco se io preferisco quello con il quadrante blu però quello con il quadrante blu di nuova produzione no gli ultimi modelli che il quadrante blu mi piace di più anche sto qua potrebbe essere uno che un giorno no dando via qualche orologio mi piace adesso mi piace anche lo yacht master ragazzi cosa volete il yacht master anno 2004 questo è stato uno dei primi orologi che io ho desiderato in maniera assoluta quindi età un po più matura quindi avevo un paio 21 anni 22 anni circa ero letteralmente innamorato di questo orologio qua mi piaceva da matti lo trovavo molto elegante con la lunetta in platino questa referenza in particolare una referenza a mio parere veramente storica c'è lo yacht master per eccellenza e ritengo sia un orologio veramente molto molto bello mi è piaciuto da subito non ho mai avuto i soldi per acquistarlo ovviamente 22 23 anni 21 anni cos'era qui è venuto sulla barca e me l'ero messo da acquistare per quando sarebbe venuto il il momento il momento arrivato trovato un vintage appunto se si può definire così del 2004 scatola la garanzia perfetto funzionante da dio tra l'altro questo qua l'ho comprato da vintage luxury a porta dei marmi dove anche tu ogni tanto ti servi persone estremamente serie quindi a certo mi sono trovato molto bene e li consiglio anche un saluto agli amici un pochino altini ma ecco rispetto agli altri negozi che vedono in giro ecco forte ma raster altro orologio che adoro poi che dopo il yacht master cosa ci abbiamo acquistato quindi questo è un altro gonfiano dueller scritta rossa questo è un orologio comprato nuovo anche questo sempre nel 2021 la verità è che non pensavo mi arrivasse submariner e mi è arrivato l'ho comprato avevo ordinato anche questo si dueller presso un'altra boutique rolex ed è arrivato anche questo sostanzialmente poco dopo si sa che i si dueller hanno una diversa commerciabilità quindi ne arrivano questo da quando ho fatto richiesta arrivato un mese dopo in sostanza mi sono dovuto me lo sono comprato ovviamente l'avevo ordinato è arrivato l'ho preso l'orologio che mi piace molto l'unico tema è ovviamente come si sa ecco qua la sua valvoletta l'unico tema il fatto che non lo agio tosto cioè un orologio bello pesante quindi diciamo che soprattutto d'estate col caldo un bel mattoncino al polso insomma è stato il primo rolex un po serio che ho comprato recentemente l'altro gol dei just 41 so che tu ne hai anche te solo che non è oro giallo questo è oro rosa acciaio oro rosa comprato nel 2018 sembrerebbero passati chissà quanti anni in realtà non è passato moltissimo ma la storia di questo orologio è stata questa avevo bisogno di un orologio elegante ma anche abbastanza non dico sportivo però insomma che non fosse il classico cinturino in pelle e oro niente guarda ho scelto questo modello sono entrato in boutique rolex parliamo del 2018 sono entrato ho chiesto quella referenza me l'hanno portata quindi non solo non ho manco dovuto ordinarla me l'hanno portata ma non ho fatto anche 500 euro di sconto va cioè questo parliamo di cinque anni fa e passiamo di chissà quanto tempo fa possiamo parliamo di parliamo di cinque anni fa un altro mondo un altro mondo oggi impensabile una cosa del genere cioè un orologio che io adoro perché secondo me bellissimo poi loro rosa ha un'eleganza che guardate in questo in questo momento questo riflesso non sembra manco che sia oro cioè sembra tutto acciaio è una cosa stupenda secondo me a un pezzo questo decisamente tiro definirei 16 523 referenza un rolex titona acciaio e oro come si vede il quadrante nero è bello mi piace mi piace molto che ho acquistato tra l'altro questo credo sia uno di quelli che costa meno sul mercato dell'usato così anche dei reseller quello che costa meno credo è se non vado errato acciaio e oro con un quadrante nero così e invece è uno di quelli che mi piace di più a me piace l'acciaio e oro sempre purché loro sia vero non che sia placato pvd allora cosa me lo fai fare fammelo tutto d'acciaio e basta ma se devi usare un altro tipo di metallo che sia metallo è come facessero il bronzo pvd ma non lo voglio il bronzo colorato color bronzo lo voglio di bronzo non perché costa tanto perché voglio che sia di bronzo di quel metallo lì qua uguale acciaio e oro e cazzo se è giallo deve essere oro deve esserlo vero non è che me lo puoi dipingere perché poi più bello no non è più bello voglio sapere che il materiale usato è quello vero no allo stesso modo te lo dipingono color titanio diciamo che esistono eccolo qua color pvd titanio no fammelo titanio lo voglio titanio ho esagerato è così quello che penso perché amo molto questo abbinamento acciaio e oro anche io volevo un daytona e sinceramente questo questa combinazione una combinazione che consentivano comprato un anno fa circa consentiva ancora di avere una certa diciamo che per un acciaio 50 mila euro servivano un anno fa con questo invece era più abbordabile mi piaceva molto e di conseguenza assurdo l'insieme delle due cose volevo un daytona volevo però non potevo spendere cifre pazzesche e mi piace molto l'abbinamento acciaio e oro anche a me con il quadrante nero infatti non capisco perché allora in partenza in partenza se te vai in un concessionario qualsiasi di orologi di qualsiasi marca una versione di in acciaio e oro rispetto a quella in acciaio costa di più costa di più quello di acciaio e oro io sto guardando a me piace il globe master dell'omega no in acciaio e oro è uno spettacolo loro sedna della dell'omega è uno spettacolo veramente opaco no cavolo che costa e costa 5 mila euro 11 mila rispetto agli 8 mila di quello in acciaio 12 costa costa di più perché perché c'è l'oro poi sul mercato parallelo dell'usato costa di più l'acciaio perché perché se io vado a prenderlo nuovo non arrivo a spendere quelli non ci arrivo quello in oro voglio quel modello lì risparmio prendo quello tutto in acciaio quindi si instaura il concetto che quello in acciaio è meglio perché tutti comprano quello in acciaio ma tutti comprano quello in acciaio perché quello in acciaio e oro costa di più allora poi dopo questa cosa si riversa nella psiche delle persone nel mercato parallelo dell'usato quello in acciaio costa di più di quello in acciaio e oro perché lo vogliono tutti ma perché lo vogliono tutti perché costava di meno prima e invece vanno a spendere di più per quello in acciaio rispetto a quello che acciaio oro cioè l'assurdo del mondo no qua almeno il prezzo giustificato dal fatto che il materiale il metallo l'oro ha un valore intrinseco no di per sé come si vede anche dal day just per il precedente è un abbinamento che mi piace quindi l'ho acquistato l'ho fatto revisionare dai maestri del tempo di milano me l'hanno restituito perfetto e devo dire funziona un gioiello un gioiello veramente un gioiello non perde un secondo né niente chiaramente sempre tutti questi orologi che vedi tutti con scatola e garanzia full set l'orologio in questione non era completamente full set perché la scatola non era originale insomma mancavano un po di libri cini mancava un po di cose ho ricostituito il full set acquistando tutti i pezzi originali che ho trovato questo è l'orologio più bello in assoluto dalla mia collezione cos'è cos'è e che io non riesco a metterlo perché troppo mi piace troppo non è paradossale ma gonfiamelo eccolo qua odemar piguet royal oak day date 36 mm quindi può sembrare un po piccolino ma alla fine di base la cassa parte da qua perché come si sa ecco qua si capisce la cassa del royal oak in realtà è più grande avendo questa forma di quello che di quello che può sembrare la vestibilità quindi è diversa è un orologio che adoro bianco però è capitata l'occasione di di un amico che l'ha comprato primo polso non non l'ha quasi mai usato e poi a un certo punto mi ha detto guarda voglio liberarmene penso sia al momento giusto e io glielo ho comprato un prezzo assolutamente corretto e questo è un orologio personalmente il royal oak a mio parere forse uno dei più belli in commercio il prossimo che vorrei se riuscissi a trovare qualcosa di un po più grande 39 mm sarebbe l'idea anche scuro magari niente questa quindi è la mia è la mia collezione spero spero ti sia ti sia piaciuta ho intenzione di andare avanti perché come dici te purtroppo non ci si accontenta mai sicuramente almeno altri due pezzi nel mirino però ecco per forza ti ringrazio tanto a te ti auguro buona fortuna fortuna viva il mondo dell'orologeria ciao poveri ci stava alla fine no ciao poveri perché cavoli se il primo il primo rolex te lo sei preso a 16 anni di nascosto e poi te l'ha rimandato indietro poi alla fine mi arrivi con il royal oak possiamo anche terminare con ciao poveri no con l'h in fondo ciao poveri va bene dai cosa possiamo dire su questa collezione sa non tutti i rolex mi piacciono al momento al momento ormai imparato mi piacciono della tua collezione lo yacht master mi piace ma non in quella configurazione lì col quadrante chiaro così no mi garbicchia lo stesso lo de mar piqué royal oak con il quadrante bianco e forse quello meno leggibile no però 36 poi insomma niente di niente di particolare cioè lo dico io perché sono seduto qua perché se ce l'avessi io ci andrei in giro tutti i giorni per dire no niente promosso va bene ti promuovo prossimo video ciao davide ciao antonio antonio sono giulia giulia figlia e anche noi siamo malati per gli orologi antonio e giulia ciao ragazzi vedo qua che ci abbiamo una sorta di tovaglia multicolore fatta uncinetto fatta come fatta non lo so però già la voce di due persone mi mi tira su di morale guardiamo gli orologi speriamo speriamo un bene dai perché questa è proprio una malattia comunque questa è la nostra piccola raccolta e non c'è un qualche vintage questo banco 37 mm uguale uguale ce l'avevo vedi abbiamo aggiunto un cinturino verde orologio che ogni tanto porta al polso faccio fare qualche passeggiatina bravo al polso lanco sempre vintage abbiamo messo un cinturino color cuoio placato eh sta andando via questo è stata una preda nostra ad un mercatino bravi dopodiché orologio del nonno eccolo qua un longin perfettamente conservato tenuto sempre nel cassetto a casa di mia nonna abbiamo recuperato 12 68 z purtroppo perché era rotto ma il resto è storia eccolo qua a casa nostra bello ora passiamo un per seo questo è pure una preda di un mercatino delle ferrovie perché tu dici che ha il datario comunque un bell'orologio con questo cinturino estivo in estate si fa vedere ma c'è un nato è un nato brava mia figlia brava mia figlia con la bronzatura ora andiamo agli orologi miei da questo è uno dei miei preferiti il cacchi field promosso visto e rivisto nel tuo canale ma perché comunque non lo già si fa vedere proprio bello ma certo ecco qua il nostro king seiko top questo colore è bellissimo è giocciare che stupendo fatto proprio per mamma mia squadra un orologio che definirei come definisci tu invendibile come invendibile anche questo orologio qua che nel tuo canale non si è mai visto eh no è la prima volta sto scherzando questo proprio al polso era prima volta che l'ho visto detto questo deve essere mio uno dei preferiti questo è uno dei preferiti e spesso sta nel mio polso ma guarda che bello come viene a stringere questo questo cinto questo bracciale proprio bello l'acciaio e il bronzo sono accoppiata vincente ma poi anche questo colore blu per quadrante bravo ora andiamo all'icon anche te color nero beh qua mia figlia dirà qualcosa uno dei primi uno dei primi e non solo è un regalo delle mie figlie un evento importante mamma mia nel settore lavorativo hanno voluto omaggiarmi ora penso le due figlie no che dalla voce sono piccoline sono piccole cioè non sono adulti fare un regalo del genere mamma mia che impegno che sfoca complimenti brava e brava ragazze brava questo bellissimo orologio le ringrazia ancora ebbe poi andiamo al mare e come andiamo a mare anche questo un regalo anche questo un regalo si regalo non ho avuto il coraggio di mettere il cinturino giallo come fatto tu e non glielo metterò mai ovviamente però questo orologio scusami era anche al contrario messo perdonami questo orologio a mare fa pure la sua figura è certo forse qua non sarei tanto contento ma me è piaciuto e l'ho voluto regalare l'ho indossa spesso mia figlia e questo venezianico con questo quadrante nero 99,9 per cento di assorbimento della luce ok regalo di mia figlia anzi per mia figlia per i suoi 18 anni e per il diploma eccolo qua a 16 esemplare di rolex that just è dei just noto che trovate sempre difficoltà a pronunciare il nome del day just date data just solo date just date just bello è un orologio orologio del papà o la la top e lo explore 39 mm anche questo incedibile invendibile come 30 spettacolare quando voglio essere sportivo invece la 39 indosso questo il tudor black bay crono nel tuo canale questo in verità non si è mai visto o mai visto mai questo a parte pure degli invendibili lo uso spesso bravo ho riscontrato problemi nella lettura queste sfere bianche sullo sfondo bianco a volte la sera alla mia età comincia a diventare problematico da vedere però non l'ho da dire a questo orologio e beh non l'ho da dire no ok davide ti ringraziamo dalla sicilia è tutto dalla sicilia è tutto ciao continua così va beh love love ciao beh bella collezione di orologi dai vintage fino ad arrivare tudor a rolex poi la icon il loris diver 65 acciaio bronze tutti i belli orologi bravo 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 il mio dubbio sull'orex explorer lì che hai fatto vedere hai detto da 39 ma lui la scritta explorer ce l'aveva ad ore 12 mentre quello da 39 la scritta explorer ce la ore 6 quindi ti sei sbagliato esiste come esiste una versione così non lo so aiutatemi voi amici da casa comunque promosso sia padre che figlia complimenti poi quando l'hobby è così in comune no che va di pari passo perché se la figlia è lì a fargli il video a parlare con lui vuol dire che un minimo di passione gli è presa no è bello perché è un momento di condivisione anche tra padre e figlia fa piacere bravo 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 buonasera davide sera saluto a te e agli utenti del canale ti propongo tre pezzi della mia collezione che penso possano significare qualcosa partiamo con un omega constellation caso però un quarto significativo perché è un calendario perpetuo ora cerco di metterlo a favore oggi il primo di dicembre il calendario segna uno a una pressione tre secondi della corona l'orologio si sposta all'indicazione del mese in questo caso andrà a fermarsi a 12 e successivamente da il ciclo dell'anno bisestile quindi 12 dicembre e l'indicazione circa dell'anno bisestile che in questo caso il 3 di 4 perché il prossimo anno sarà bisestile e questa indicazione del ciclo bisestile te la dà il numero romano ora non so se si vede credo di sì torna indietro partono i numeri romani 4 3 questo orologio la particolarità che si ricorda naturalmente dei mesi di 30 di 31 e di 29 e ad esempio ieri era il 30 di novembre e ha passato direttamente al primo dicembre scavalcando il 31 quindi questo orologio sostanzialmente andrà regolato il primo marzo del 2100 perché un anno bisestile primo gennaio il 30 e 29 diciamo febbraio del 2100 è un anno bisestile che però non è bisestile per via dei centenari eccetera eccetera quindi questo orologio sostanzialmente si dovrà regolare il primo marzo del 2100 solito constellation bracciale integrato bellissimo eccetera eccetera si allora va bene un quarzo ho dato anche il top tutto quello che vuoi ha senso anche di esistere il calendario così che non lo regoli mai però capisci a me una volta che lo metti lì nel senso col quarzo è più un sistema al quarzo è più semplice farlo no il bello dell'orologia meccanica è riuscire a fare una cosa del genere utilizzando solamente ingranaggi levette molle cioè allora dopo 28 giorni allora questo calcoli questo questo fa così allora questo deve fare così e questo deve fare cosa cioè tutto un insieme di cose che vanno meccaniche che vanno poi a darti un calendario che senza alcun bisogno c'è di regolarlo no con quarzo è un po più facile c'è un motorino visto che ti gira tutto fa il calcolo magari c'è anche un microchip che cosa ne so io non lo so non lo conosco che si fa il calcolo semplice poi anche per regolarlo pare anche macchinoso tenere premuto però parte che lo regoli una volta poi dopo nel 2100 fino a 2100 però nel cambio durante un cambio batteria deve magari non so cosa succede va bene comunque da contenuto e contenti tutti secondo pezzo vai zenith è il primero port royal open particolarissimo uno dei primi romino valutati della 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 storia del primero per me bellissimo ci sarà un motivo di bracciale integrato in caociù bracciale armato peraltro bellissimo lo rende sportivo stile anni fine anni 90 2000 un pezzo del 2003 2004 il calibro è bellissimo l'orlogio è di una solidità spaziale vetro a cupola la deployante bellissima il fondello a vista fa vedere il movimento fa vedere il movimento è superlativo ti dà un'idea di solidità ti dà un'idea di costruzione è un cronografo favoloso favoloso io più di una volta ti ho sentito dire lo devo mettere in collezione devo mettere in collezione si va mica questo mettilo in collezione è stupendo questa è la particolarità di avere la riserva di carica che è molto utile in un calibro automatico devo dire la verità in asse con in asse con i minuti e secondi che a volte diciamo che è un po sconveniente per la leggibilità però secondo me è un orologio stupendo tra l'altro di questo orologio qua che un port royal open e sono state fatte tre versioni la bianca la nera e questo color grigio perla questo color ostrica e questo è molto raro perché se tu vai a vedere in i vari siti su 100 fatti 95 sono tra bianco e nero e questo grigio è veramente raro mi viene in mente il mio mega devil con il bracciale armadillo quello mattoncini che si trovano già con un bracciale col bracciale così trovarne è un difficile però io c'è un quadrante grigio si trovano bianchi e neri ma quel quadrante grigio pochi pochi una analogia con questo qua che però io dico le prime rossi da mettere in collezione lo metto lo metto sì ma mica così cioè come open art non mi piace al momento non mi piace open art preferisco nel primero classico no però finché non lo fanno da 40 mm può darsi anche mai e poi anche il discorso magari della lancetta lì che va al decimo di secondo cronografica non è che mi fa impazzire cioè c'è delle remore un po ancora sul sul del primero sul crono master ha fatto revisionare io lucidare a queste parti lucide queste parti è particolare a me è sempre piaciuto tantissimo però non è il classico primero che si vede in giro però ci piace ci piace salendo di livello tedesco original classico e grigio intracite grande data e riserva di carica no date indici in oro e spessore abbastanza contenuto il la versione fase luna è un po più spessa sono trovo misurato bellissimo l'idea della carica manuale spaziale è un orologio che ti arriva a differenza del primero ti arriva un po dopo a livello di percezione all'inizio ti sembra qualcosa di un po più delicato di un po più invece è spaziale dietro il calibro ab sembra di essere al cinema nastro di glass suite a decorazione ponte del bilanciere in oro doppio pollo di cigno secondo me anche qui la versione manuale a livello di di vista del retro è più bella ancora della versione fase luna automatica perché c'è il rotore disturbo un po questo è proprio bellissimo gioiellino il cinturino non è il ma non so poteva far di meglio però comunque sia orologio spettacolare ma mi piace ci piace ci piace tanto basta anzi c'è un bonus cos'è il bonus saliamo ancora leggermente di livello rispetto al glass suite eccolo qua buonanotte buonanotte al secchio da potete anche evitare di rovinarmi la digestione con questo ultimo orologio pagani design li ma da madre che se ne vada quel paese la suite origina che bello orologio che auguro li avete visto la platina tre quarti che sembra che va a coprire tutto il movimento ma è una caratteristica dell'orologeria tedesca questa platina così gigante che occupa spazio e viene decorata appunto perché occupando spazio è quella che si vede maggiormente ci vuole del coraggio nel senso di spendere soldi per orologi così belli ma fuori dal coro no ma è anche un po classico molto classico no è un orologio avete visto con il quadrante decentrato la riserva di carica la grandata è molto classico no mi ci metto anch'io siamo abituati a puntare piuttosto su orologi sportivi con bracciale in acciaio o diver anche di livello no per esempio se uno andasse lì a prendere prenderebbe io per esempio prendere il il CQ il glassute origina CQ che è il diver di casa glassute con un calibro anche lì c'è la versione da 40 mm con il calibro un po meno breggiato quella da 43 con il calibro paragonabile a questo è prendere quello no per dire che è più sportivo rispetto a quello lì classicissimo quindi complimenti anche per aver scelto quell'orologio lì che non è da tutti bravo dai anche te orologi da paolo però per oggi due video con un orologi da paura cioè da poi è particolare è particolare anche prossimo video ciao davide ciao andrea di cesena andrea un appassionato di diver e ti invio la mia video collezione diver partiamo dal giappone giappone primissimi citizen full loom chiamiamolo così che la n y 00 46 02 w alla ghiera blu scura e e dai numeri marcati sul fondello si può risalire che è un marzo 1998 pensa comunque il quadrante fa ancora una luce bella potente e chimica funzionerà sì es che ex 09 made in japan qualche segnetto sulla ghiera che gli dono così un pochettino di fascino vintage vintage tra virgolette questo qui è un 2007 a 15 anni funziona benissimo e sono davvero iconico meglio averlo che non averlo dire ma sì poi passiamo a dei diver da 38 mm questo sicuramente lo potrà prestare perché è uno di due marchi preferiti è un diver guardiamo che qua che c'è il fatto che è bianco questo però c'è tutto tutti gli accenti bordati per benino e si legge bene si legge bene 38 mm quindi abbastanza piccolino spessore solo 11 qui siamo fine anni 90 anni 2000 quadrante trizio anche se non è inciso il fondo del fondello ore 6 del quadrante ore 6 e condizioni spettacolari praticamente nos o anche scatole garanzia molto belle perfetto anche in inverno sotto una giacca invernale poi bulgari 28 s che verano oggi preferito movimento certificato e conosco 38 mm ma veste leggermente di più per il bracciale diciamo integrato incorporato la cassa molto stiloso ma piace mi piace tantissimo si trova ancora a prezzi molto ragionevoli soprattutto al giappone probabilmente era venduti più la non lo so forse un modello venduto specificatamente in giappone ma sotto i mille euro si può trovare un gioiellino del genere bene poi passo al tutor black bay l'ho preso senza bracciale perché il bracciale non mi fa impassire con i finti rivetti l'utilizzo con tropic non è un buon motivo non è un buon motivo non prendere un bracciale perché c'è finti rivetti cioè va preso col bracciale poi ci metti quello che ti pare a te perché anche un domani che lo dovessi mai rivendere fai fatica senza bracciale a rivenderlo secondo me parti già con un nato così vendo con il nato le persone vogliono il bracciale devono andarsi a ricomprare il bracciale a parte dovevi prenderlo col bracciale secondo me e poi metterlo da parte oppure utilizzarlo un po' con il bracciale un po' con un nato anche da poco quello che ti pare a te ma poi i finti rivetti ma è una scelta stilistica che cerca di riprodurre quelle buglie laterali che c'erano un tempo cioè qual è il problema finti rivetti cioè veramente non capisco a volte con pelle con dei nato questo nato fatto in pelle e comodissimo e morbidissimo è un gran bello orologio è il mio unico orologio nuovo tutti gli altri li ho comprati usati davvero un best buy a mio parere passiamo ai miei tre omega un primo è l'unico quarzo della mia collezione 22 65 80 e ce l'ho da cinque anni ottime condizioni al big trio diciamo una referenza che secondo me o meglio dove dovrebbe produrre ancora invece non produce più design iconico un diverso bellissimo fatto in diverse varianti davvero bello 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 molto bello poi abbiamo la rai toshan la prima referenza 250 al posto di james bond in quantum of solace 42 mm spessore accettabile lag to lag accettabile e quindi si porta si indossa molto bene ghiera alluminio che preferisco le ceramiche in assoluto infatti non ho neanche una ghiera ceramica in collezione ma secondo me è anche sbagliato fissarsi su tutta una cosa no cioè non voglio le ghiere ceramiche solo alluminio non voglio le ghiere in alluminio solo ceramica ogni orologio fa storia se io ho orologi con la ghiera in ceramica se c'è sono contento orologi con la ghiera in alluminio se c'è sono contento con la ghiera in bronzo con la ghiera in vetro a zaffero è uguale non mi cambia non è una caratteristica che mi fa impedire di comprare un orologio o non volerlo no ti precludi un sacco di di degli orologi se cominci a dire quelli con la ghiera ceramica non li voglio perché sono troppo lucidi però per conto non si raffiano cioè mettiamo sulla bilancia le due cose no quindi non bisogna fissarsi sempre sulle caratteristiche no deve essere tutto se un orologio è così così che cosa è cosa para ponzi ponzi pa bello 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 e passiamo al mio ultimo omega che è il 22 20 80 al posto di james bond in casino royale è il successore del leggendario 25 31 80 ovvero diciamo il si master il primo vero si master dell'epoca moderna io poi parlo della versione automatica da 41 mm e questo è l'ultimo in ghiera alluminio è il primo con movimento coaxial 2005 mi sembra e niente davide ti faccio i complimenti per la tua trasmissione grazie la mia collezione faccio fatica a trovare qualcosa che mi piaccia che mi emozioni ovviamente ami su mariner ma 10 mila euro li trovo una spesa folle e sto puntando al pelagos fxd di alinghi anche se secondo me il lag to lag da 52 mm è totalmente folle però comunque un orologio che si indossa ugualmente bene ti chiedo se se me lo consigli se ti piace anche a te oppure se eventualmente se hai qualcos'altro da da propormi un saluto a tutti i ragazzi che guardano le video collezioni davide cecchini ciao 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 il pelagos a me piacerebbe però piacerebbe la versione quella normale 2 da 39 quello lì piccolino da che è uscito da poco però sono in titania a me il titanio per ora non mi fa impazzire al momento perché non si sa male nella vita poi do il voltolone incomincio a comprare solo orologi di italiano quindi al momento quello che mi frena il titanio se a te non ti frena il titanio vai con qualsiasi modello del pelagos e sei contento altrimenti cosa suggerirti non lo so ce n'è una marea una marea di orologi da da poter su quel budget di un diver sul budget del pelagos che ne so io cosa prendere non lo so non lo so tutti quelli che mi vengono a mente sono sotto come 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 livello di prezzo quindi un bright in ci piacerebbe al posto del pelagos io dico di sì oh il tagoya acqua racer che bello il tagoya acqua racer quello con la data ore 6 da 40 mm ah quello lì è bello miei gusti poi collezione bella oggi tutte collezioni belle ragazzi l'ultimo lì che hai fatto vedere il simaster 300 professional con il calibro 2500 hai detto che è stato il primo ad incassare il calibro 2500 ok ed è stato anche l'ultimo ad avere il calibro 2500 a catalogo cioè quando tutti gli altri modelli avevano già erano già passati all 8500 o 8400 era ancora in catalogo il calibro 2500 e simaster 300 con il calibro 2500 è stato l'ultimo ad essere estromesso dalla line up è così curiosità che mi sono ricordato prossimo video e qui alex da un altro grandissimo fan gravi oggi ti voglio far vedere la mia collezione anzi raccolta di orologi bravo iniziamo del mio primo acquisto cosa se ora il samurai yes save the ocean bello mi piace squadratone così bravo il mio primo acquisto prima non si scorda mai da qui è nata la mia passione diciamo bene o male secondo acquisto cano ordine cronologico orient cano orient cano e azzecco tutte ovviamente mi l'ho detto io cosa è certo grosso sto qua 44 molto grande diciamo però però anche molto resistente ci ha fatto di tutto in questo orologio poca spesa tanta resa tanta resa poi continuiamo con lo spinnaker ah simpatico teseo tesei in titanio è in titanio so che a te non piace tanto il titanio fatico un orologio leggero un giorno un padre pratico e comodo pratico e comodo ma cosa fare gli spot pubblicitari passiamo un altro samurai l'altro questa volta con l'emante io una cosa che non capisco è come si fa a comprare due due orologi uguali cambia il quadrante lo stesso modello, un samurai e un altro samurai fatico perché io fatico con tanti orologi che ho a indossarne uno a volte qualcuno rimane indietro figurati se ce ne ho due uguali, cosa succede non è che posso indossare cinque giorni il samurai poi cinque giorni un'altra volta il samurai perché sono due diversi non capisco un taio spettacolare anzi spettacolare è dir poco uno tra i miei orologi preferiti anche se è un pesantone che non finisce più continuiamo con questo orien bambino da 41 mm anche questo un po' grande forse 42 non mi ricordo legibilità pari allo zero infatti lo vorrei vendere prima o poi questo vedremo continuiamo con un Tudor Black Bay 58 bravo blu un altro dei miei orologi preferiti tutti preferiti che non venderò mai mai per l'amor di cielo te l'abbiamo poi un altro seco samurai e vabbè ma allora ma allora la fai apposta ora mi sale mi fa arrabbiare cioè tre samurai già due anche il terzo con il cinturino in gomma perché ci vuole per forza quello che non è che potevi mettere il cinturino in gomma in quell'altro no ha preso questo ora save the ocean a cui ho cambiato il cinturino il bracciale e ho messo questo cinturino in gomma molto comodo pagato tipo 3 euro eccezionale eccezionale un altro samurai poi questo Hamilton Khaki Field Mechanical Mechanical yeah un classico un classico bello mi piace c'è da aggiungere altro guarda la leggibilità di questo molto comodo molto leggero si legge bene sto qua poi continuiamo con questo Mido Ocean Star Tribute topino poi ho cambiato il cinturino ci ho messo ma come il Tribute che ti arriva con quel bracciale a chicchi di riso che è stupendo che è il suo bello e ti ci vai a mettere questo cavolaccio di nylon cos'è ma no il Tribute col suo bracciale bello chicchi di riso lucido figo proprio che fai così si illumina la stanza questo bracciale no sì questo bracciale in votazione che secondo me neanche sta tanto bene cosa non ho capito per cambiare l'ho messo ma come non sta bene l'ho messo Seiko Speed Timer quarzo aspetta all'ombra Seiko Speed Timer quarzo bellissimo pure questo proporzioni perfette un quarzo ah bravo è un quarzo poi poi passiamo un altro pezzo topino da 90 secondo me oris diver 65 acciaio bronzo eccezionale non è come il mio portabilissimo è bello inizioni perfette bello bene da dire continuiamo con il Seiko samurai scheleton che si chiama quello che si vede se coci la data numeri della settimana sotto simpatico dai bellissimo anche se il bracciale diciamo che è un po' scadente eh vabbè dai facciamoci la piacere dai pazienza passiamo con questo timex quarzo anche questo ho preso una bancarella a 20 euro e infatti già si è fermato ma come forse ma come 20 euro cioè questo qua c'è la cassa in resina come quello che c'ho io ce l'ho anch'io quando ci sono le promozioni costa 40 euro con le promozioni su amazon a volte 30 perché prendono la 20 sulla bancarella non lo so questi orologi qua compri nuovi cioè da 20 a 30 euro non ti cambia la vita però c'è un orologio nuovo di pacca se non funziona farei il reso a amazon gli ho rimasti indietro a bancarella ti sembrava di aver fatto l'affare non funziona sarà fermato ma la batteria è provata a cambiare non lo so però bene ti sta bene perché la batteria è in garda hai capito la batteria è in garda e ora ti ritrovi con l'orologio che è fermo e non sai perché lo so io perché perché ha batteria originale dovrebbe essere originale però poi anche le sfere è un macello sto orologio la batteria poi questo è un altro orologio che sicuramente conosci bene ProMaster Citizen ProMaster for Lume simpatico una un nome una garanzia e infine e infine questo Seiko Presage preso super scontato bello bello questo cocktail con un quadrante verde molto bello bracciale anche questo da dimenticare ma per il resto non mi ricordo la sua bella figura grazie di tutto Davide mi piacerebbe sapere la tua opinione su questa collezione e tante belle cose miau miau va bene miau tante belle cose collezione sapere sulla collezione è una collezione drogata dal samurai ci sono tre samurai che si sono infilati lì dentro e hanno aumentato la percentuale di giapponesismo dentro questa collezione non lo capisco perché tre samurai non lo capisco ma lo accetto contento te contenti tutti ma è promosso è una bella collezione di orologi validi interessanti alcuni anche ricercati a parte quel Timex Lee che potevi evitarlo è Quartz On quello che mi ha colpito di più è l'Oris Diver 65 ve lo dico così perché è una versione tipo la mia però diversa dalla mia la mia c'è quadrante blu quali c'è quadrante bronzo la mia c'è la ghiera in bronzo quali c'è la ghiera nera è un contrasto che gli ho dato che è il top infatti perché me lo ha fatto apprezzare particolarmente questa combinazione di colori e di materiali bravo bello ruolo boh mi sembra di aver detto tutto vi ringrazio per essere arrivati fino a qua spero vi sia piaciuto il video il presentatore e tutto il contesto e anche l'orologio del giorno che oggi era il mio explorer da 39 39 36 39 quell'altro non lo so vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love musica musica Grazie a tutti.